Francesco Longobardi, Presidente Abruzzo Cuore d'Italia, parte la quarta edizione del Banco Scuola. Di che cosa si tratta e come verrà poi concesso questo materiale? Ci fa piacere che ogni anno ci sono sempre più comuni che aderiscono con il loro patrocinio, anche perché la crisi attanaglia sempre più i territori, ma soprattutto le famiglie. Noi raccogliamo dall'1 al 30 settembre attraverso cartolerie, librerie del territorio, o ai permercati o comunque gente che vuole donare una matita, una penna, un album, un astuccio, qualsiasi materiale didattico e a fine raccolta che cosa facciamo? Sorteggiamo le scuole dell'obbligo del territorio, quindi consegniamo questo materiale nelle mani del direttore didattico che darà con discrezione le famiglie disagiate o bambini meno ambienti, quindi diamo l'opportunità e le pari opportunità a questi ragazzi per l'istruzione. Noi abbiamo una pagina Facebook di Abruzzo Cura d'Italia, in più abbiamo anche aperto una pagina di donazioni, perché si possono anche fare donazioni economiche per qualcuno che non ha la possibilità di poter scendere e comprare, oppure può farlo anche attraverso questa raccolta fondi che abbiamo aperto sui social, oppure può contattare 346-3149-293 e saremo noi stessi a venire l'incontro per poter prendere in carico il materiale.